C'è una differenza tra sentire e ascoltare, no? Le persone, diciamo, bianche, loro ti devono ascoltare, avere l'empatia di dire che loro hanno sofferto e quindi li dobbiamo ascoltare, li dobbiamo abbracciare prima e poi pensare di imparare e non dare un giudizio, no? Perché sempre secondo Mario Sergio Cortella, che io sono un affizionato di lui, lui dice sempre che un pregiudizio, sia raziale, sia del genere, qualunque sia, è sempre un cancellamento del senso critico. La persona che commette un'aggressione, che commette un pregiudizio raziale, lui perde un'opportunità di imparare una cosa che è talmente importante, no? Io vado sempre su questa linea.